Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, questi principali titoli della mattina. A Messina si cerca Daniel, 17 anni, si è allontanato nel pomeriggio di sabato 10 giugno. L'appello della madre Elvira, chi l'ha visto, ti vogliamo tutti bene, torna. Duro colpo alla piazza di spaccio di via Ermocrate, blizza antidroga a Siracusa, i carabinieri hanno sequestrato anche armi e contanti. Maxi frode sull'acquisto e vendita di automobili di lusso, indaga la procura europea, ha coinvolto anche la Sicilia. Un malore costato la vita ad una donna di 77 anni, una turista svizzera morta a Santa Marina Salina, mentre faceva il bagno a largo delle isole Olie. Tromba d'aria e mare a Palermo, visibile dall'aeroporto Falcone Borsellino, allerta gialla per la giornata di oggi, ma da domani arriva il caldo. E con questo è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.